DAXOLAB DAXOLAB è un co-working dedicato a professionisti e alle aziende di Livorno, un ambiente attrezzato dove professionisti e imprese lavorano a fianco a fianco condividendo spazi, servizi, esperienze e competenze. Un ufficio a basso costo, completo di scrivanie, coperture Wi-Fi, connessione a banda larga, sale riunioni e zona relax. Fai crescere la tua idea nei nostri bellissimi spazi, situati nella zona industriale picchiante e nella zona porta mare di Livorno. Vieni DAXOLAB, ti aspettiamo!